E bentornati tutti, secondo episodio di Minecraft in Space Allora, non so bene cosa fare poiché non mi avete ancora suggerito nulla Perciò ho deciso di migliorare un po' la casetta Allora, ho fatto una cesta dove ho messo alcune robe preziose Adesso mettiamo subito al sicuro il piccone di diamante Facciamo con quelle di pietra Ho fatto anche un altro po' di legno Non si sa mai, bene Allora, la prima cosa che vorrei costruire è fare la pista di atterraggio Adesso voi potete considerare inutile una pista di atterraggio Poi però, magari avanti andremo a esplorare lì sui meteoriti Vedrete l'utilità della pista di atterraggio Ok, bene così Ok ragazzi, forse gli episodi non saranno poi lunghi come il primo Perché so che il primo era di soli 9 minuti dove facevo una cazzo di casetta Però, guardate, guardate quanti meteoriti Li ha caricati tutti Guardate sopra di noi, là c'è uno vicinissimo Magari quello è il primo che andremo a esplorare Vabbè, allora Tranquillo, allarghiamo E così quel meteorite là sicuramente andremo a esplorarlo Per prima dato vicinissimo alla casa E non c'è il rischio che cadiamo di sotto Morendo come dei cretini Mi sto confondendo sulla tastiera Bene, bene, dai, dai C'è una bella lunga sta pista Così che anche nei posti più lontani riusciremo a riatterrarci Bene, manca solo sta fila qui Allora, secondo me non è abbastanza lunga via Devo mettere più pietra Un altro stack qui Facciamola un altro po' più lunghina Poi se non vi dispiace vorrei provare a fare una cosa Dato che non so niente su AstroCraft Volevo vedere se Si può fare le coltivazioni nello spazio Adesso proviamo Ok, la pistola a terraggio mi sembra abbastanza lunga Guardate qua Quell'asteroico, il meteorite però è vicinissimo alla casa Quasi quasi Aspettate prima, però voglio fare Una specie di barrietta qui Per evitare di cadere come dei coglioni Meglio se commento più spesso Perché tanto l'audio del gioco Non si sente Cioè io lo sento Ma voi che però guardate il video Non lo sentite per niente Ok, manca poco la fine costruzione Guardate, quello lì quanto è vicino Che botta di culo Ovvero vicino alla casa Cioè in questo episodio non lo andremo a esplorare Però Il prossimo sì magari E quindi dal prossimo episodio Vedete se sintonizzati Che esploreremo meglio Ok Allora Volo dritto a casa E cominciamo a fare il pavimento di vetro Come avevo detto nell'episodio precedente Abbiamo solo 12 blocchi Per cui Riusciremo a far poco Teniamo il premuto sempre Così per passarsi Allora Qui 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 Oh guardate Guardate com'è bello Com'è bella la terra Altre quattro blocchi Poi devo finire Sto episodio di cacca Perfetto Vetro finito Uguale Fine dell'episodio Non era stato niente Di che Adesso facciamo un bel Faccio un bel saltone E vi saluto Pronti Via Via